Ciao, io sono Irene, sono calabrese della diocesi di Occhio do Palmi. A me è successo che quando avevo 15 anni il mio responsabile, nonché mentore, mi ha catapultato nei 6-8 ed era una ragazza di quelle che non avrei scattato nemmeno uno spillo e mi ha detto, senti, eravamo in piazza, mi ha detto, senti, vedi che mi serve una mano nei 6-8 e mi ha catapultato per due anni nei 6-8 e poi mi ha prelevato nei 6-8 e mi ha catapultato nei 12-14 dove ancora sono e per me la vita è buona quando una persona ti fa vedere quello che è Cristo, fiducia e amore.